La capolista Rimini, già laureatasi campione del Girone, arriva a Nuova Feltria con l'intento di fare buona figura, seppur decimata dalle assenze. Il Nuova Feltria è attesa alla prova con le grandi. I biancorossi, oggi con la terza maglia ufficiale, assaggiano i palloni della Serie A, lo testano, si guardano attorno e non sanno che tanto amaro sarà. Per il Nuova Feltria gioia incontenibile, riscattata anche la sconfitta dell'andata per tre reti a uno. I biancorossi salgono in Valmaricchia con una media invidiabile, viaggiano a Braccetto con la formazione di Mastro Nicola. Ma 72 gol fatti quanti la prima squadra e un solo gol in più incassato, 16 contro i 15 di Ricchiuti e compagni. Il Nuova Feltria vuole puntare alla terza meta chiamata a podio. Al comunale si respira aria di grande calcio, pubblico delle grandi occasioni e arbitraggio discutibile con il signor Zanotti della sezione di Rimini che si dimostra fuori sezione in tutti i sensi, poi ne parleremo. Giallo-Bru, fin dalle prime battute, giocano a trazione anteriore. Otradita da dintro l'area avversaria alza la sfera sopra la traversa di Basilico. Lo stesso portiere è costretto agli estremi quando dalla distanza Gori vede il set. Il portiere con l'aiuto della traversa evita il peggio. Azione fotocopia al minuto 15 quando dona una rimessa laterale, questa volta Autodì gira di testa ma mette alto. I giallo-Bru sono devastanti, giocano in maniera spettacolare, stappano lo champagne e in contropiede con gli evangelisti vanno a bersaglio. Il numero 9 si ripete come all'andata, vittima sacrificale di turno neanche a farla apposta in Rimini. Tamagnini con uno solo personale nell'altra aria chiamano la rispinta all'attento Germani. Becchimanzi avanza e guadagna una punizione ma qui scatta la prima munizione per Corazza e sarà una munizione pesante. Dopo capiremo il perché. Dalla mattonella si presenta Albini che spedisse alto. Altra punizione per i biancorossi, Becchimanzi inquadra il bersaglio ma la traiettoria risulta troppo lenta per impenserire Germani. Lo stesso numero 7 tenta dalla distanza ma non incide. È la volta di Franceschini, uguale esito. È il momento migliore della formazione di D'Amato con Buda che va sul fondo, Germani respinge corto, Albini calcia ma lamenti il pallone una volta raccolto. Mariani guarda linee di casa, alias Pacconuzzi per gli amici, guarda impassibile, preoccupato come non mai. Come del resto vige preoccupazione quando Stella sbatte il gomito contro il muretto del campo. Per fortuna nulla di grave, anche se per precauzione sarà sostituito nel corso della ripresa dal tecnico D'Amato. Fine di prima frazione di gioco. Nella ripresa, pronti e via, è Albini dai campi di un bribito. Alla porta di Germani, pallone sul fondo. Al quinto, Corazza viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco per doppia munizione. Proteste locali. In nuova fete reagisce e in contropiede con un'otto a D, sbaglia l'incredibile, traversa piena a porta spalancata. Dato che si parla di Legni, uno lo colpisce anche i Rimini. Minuto 60, 60 secondi più tardi, Tamagnini c'entra il palo alla destra di Germani. Mentre Germani, poco dopo, chiude ottimamente lo specchio della porta a Benchimanzi. Gregori, in questo momento, prova a mettere ordine e concursione, però centrale. Mentre gli animi si scaldano, anche dalla panchina, allontanato il dirigente Giuliani, alias Magnameli per gli amici, per proteste. Anche se Zanotti sbaglia il soggetto, l'espulsione sarebbe diretta al dirigente Gori. Qui Giuliani, allontanandosi dal terreno di gioco, sembra dire a D'Amato, hai visto, io non ho parlato, non ho fatto nulla. Dalla punizione giallobru nasce lo scontro tra sacchetti 8 a D, che porta la respinta alla vicinata dall'ottimo Basilico. Mentre Tamagnini cerca l'Euro-Gol, ma ancora una volta il pallone si spegne alto. Nel momento di maggior pressione dei Rimini, in nuova fetia colpisce. Elaini, appena entrato, vuole in cielo, stacca di testa, colpisce il palo e poi il corpo di Basilico, che getta il pallone in fondo al sacco. Nuova fetia 2, Rimini 0. È l'apoteosi. Albini, dall'altra parte, sfona dalla distanza una traiettoria velenosa. Germani fa da sarà cinesca, attravestendosi da ragno nero. Tamagnini accelera, ma non trova la porta. Porta che trova in nuova fetia. Punizione di Gregori, spaccati in area avversaria di Michele Gori, e 3 a 0. Il Rimini, a questo punto, si sveglia solo nel finale. Albini innesca Becchimanzi, che mette il turbo e batte Germani con un preciso raso terra. La volta dopo, tocca Franceschini, che raccoglie l'assist dell'ottimo Albini e con una traiettoria alla camomilla infila Germani, ma beffa anche noi, che rimaniamo increduli. Nel finale, Sartini, appena entrato, di pallonetto, alta di pochissimo la mira, mentre l'ultima azione arriva da una punizione di Albini, che termina alta. Vittoria sofferta con l'uomo in meno e scatta la gioia della Comandini Band. 3 a 2, abbraccio da parte dei tifosi e i complimenti dei due tecnici. Oggi è veramente stata la vittoria della squadra, del gruppo, della volontà, dei sacrifici. Abbiamo raccolto i sacrifici che abbiamo fatto durante tutto quest'anno, quindi sono doppiamente contento. Il complimento a Nova Feltra, che ha fatto una grande partita, ha meritato di vincere. Nello stesso tempo faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché nonostante le difficoltà, le emergenze, è rimasta in partita fino alla fine. Ho detto anche ai ragazzi dentro i spogliatoi, queste sconfitte ci faranno crescere e secondo me gli faranno bene anche a loro.